quando si dice che altrasimeno sono decenni che non viene fatta manutenzione questo è l'esempio lampante questo si tratta del canale dell'anguillava siamo sulla parte finale vedete questo è il canale qui l'acqua va altrasimeno 200 metri più avanti c'è la foce ci sono praticamente le piante cresciute sul canale artificiale guardate quando sono grandi che vuol dire che sono decenni che qui non viene fatta manutenzione io adesso soldi ci sono per fare queste opere ma i lavori non si fanno l'unione dei comuni che ha questa competenza territoriale perché non li fa queste sono le condizioni in cui versa la foce dell'anguillava questo è il porto di sant'arcangelo è un anno che aspettiamo i dragaggi nelle darsene pensavamo che li avrebbero fatti adesso in primavera è arrivata la notizia che li faranno forse dopo l'estate quindi vuol dire che gran parte delle darsene quest'estate saranno impraticabili perché il lago calerà ulteriormente di 50 centimetri o forse un metro dal livello attuale i soldi per fare questi lavori ci sono da due anni depositati nelle casse dell'unione dei comuni che è l'organo che ha la competenza in materia ma i lavori non partono ecco la situazione Grazie a tutti Grazie a tutti. Grazie a tutti.